Il mercato di Serie D vive una momentanea fase di stallo, tante le trattative ma poche le ufficialità. La Fidelisandria punta a rinforzare la zona nevralgica, tra i nomi che circolano le piste più concrete sono quelle che portano a Tiziano Prinari, che saluterà Fasano, e a Gabriele Aprile, ex Monopoli. Per il reparto offensivo invece piacciono sia Mattias Cristaldi che Loris Palazzo. Su quest'ultimo però è concreto l'interesse da parte del Brindisi, laddove il classe 91 ritroverebbe De Luca, ma anche della team Altamura, che a distanza di poco più di un anno vorrebbe riportarlo in bianco-rosso. Il bisceglie dal canto suo ha messo nel mirino l'attaccante classe 2001 Luca Stancarone, messo si in mostra con la Vigortrani. In eccellenza, colpi di stampo al biseleste per Gallipoli e Matino. Indosserà i colori giallorossi il difensore classe 88 Lucas Basualdo, che nel corso della sua carriera manda importanti esperienze in squadre come Gimnasia La Plata ed Estudiantes. Mentre si accasa alla corte di Branà il centrocampista Esteban Giambuzzi, atleta 31enne ex Anconitana. Ufficialità importanti infine anche per le Tarantine, Ginosa e Manduria. Continuerà a vestire la casacca bianca-azzurra l'attaccante classe 2001 Raffaele Scarci, mentre i pali della porta bianco-verde verranno difesi dal classe 2002 Iari Pizzi, ex Gravina.